31 gennaio 1854 Muore a Torino Silvio Pellico Patriota, scrittore e drammaturgo nel 1820 viene condannato a morte dagli austriaci La pena, commutata in 15 anni di carcere e poi ridotti a 10 ispira la più celebre delle sue opere Le mie trigioni Attraverso i quattro processi che si svolse Grandi processi che si svolsero dal 1818 al 1824 Cioè il processo di Frattapolesile Il processo Pellico Maroncelli Il processo con Fanonieri-Andriane E il processo contro i cospiratori bresciani Tutto il movimento liberale del Lombardo-Veneto Fu stroncato, i capi furono dispersi Il movimento perse qualunque possibilità, capacità di diffusione Settolble OUGH! Grazie a tutti.